La Casa del Volontariato ha ospitato ieri lo spettacolo teatrale per bambini, Ansel Gretel e il segreto della strega. L'obiettivo è stato quello di offrire occasioni educative di alto livello per i bambini e le loro famiglie. Lo spettacolo ha proposto una divertente riflessione sulle dinamiche relazionali tra fratelli e il rapporto con le persone anziane. In scena Emiliano Longo e Eridiana Petrone, anche autrice dei testi e regista dello spettacolo. Le musiche originali sono di Giuseppe Nicolosi e le scene di Tiziana Rapisarda. L'Associazione Culturale Nave Argo di Caltagirone collabora per la prima volta con la Casa del Volontariato di Gela. Un'esperienza sicuramente riuscita che speriamo di ripetere con profitto, vista la grande partecipazione e l'entusiasmo dei bambini, dei loro familiari. Per noi il teatro da vent'anni è un'esperienza formativa che crea formazione, che crea comunità, per la quale, pensiamo, possa essere importante continuare a fare queste esperienze. La favola si intitola Ansel Gretel e il segreto della strega. Io ho curato la riscrittura del classico dei fratelli Grimm, Ansel e Gretel. Vi ho voluto dare una chiave di lettura prettamente per i bambini, un messaggio sull'importanza del fratello e della sorella. Quindi avere un fratello e una sorella, l'importanza e le dinamiche di gelosia che molto spesso accadono in famiglia. E soprattutto ho voluto mettere l'attenzione sul fatto che la strega è una persona che mantiene nel suo cuore uno stato di odio e cresce con questo stato, con uno stato di odio, di rabbia, in questo caso di gelosia. Perché la strega di Ansel e Gretel e il segreto della strega ha un segreto che è quello di essere scappata di casa, di essere cresciuta nel cuore con una gelosia per la sorella minore. Per noi è un investimento importante perché significa in qualche modo che riusciamo a contagiare la città di un'esigenza importante. L'esigenza è quella di educare questa città. E il teatro attraverso le favole rappresenta un'occasione straordinaria per trasmettere dei valori. In questo caso con lo spettacolo di Ansel e Gretel, il valore della famiglia, dei legami. E su questo dobbiamo puntare per dare una svolta a questa città in termini educativi.